Passo la parola alla professoressa Maungeri che a questo punto è tirata, con rispetto parlando per i capelli, sulla questione internazionale. Facciamo il punto, perché Fabio giustamente si chiede se il nostro Paese si sta attrezzando, poi ce lo dirà anche il Ministro Orlando, per il semestre europeo, rispetto alla direttiva. Perché tutti parlano di direttiva, devo dire, anche lì c'è stata molta propaganda, ragazzi. Noi abbiamo avuto una Commissione parlamentare europea, la comunità organizzata, che ha elaborato degli emendamenti a quella direttiva, ma che neanche in Italia si potevano applicare. Cioè pensare che il modello italiano fondato sul reato dell'associazione mafiosa e con le misure di prevenzione patrimoniali noi possiamo imporlo ai tedeschi, cioè è veramente questione di antidoping, cioè è una follia. Io spererei che il prossimo Presidente della Commissione parlamentare, se ci sarà, del Parlamento europeo, non sia un italiano, figurarsi un siciliano, sia una persona normale, che quindi abbia il quadro normale degli ordinamenti giudici dell'Unione europea e poi si impegnerà anche sul versante del contrasto della comunità organizzata. Anna Maria. Grazie, Costantino, già avremmi dato l'occasione di parlare, di riflettere più che di parlare, di riflettere insieme a voi e insieme appunto agli operatori e gli esperti del settore. Allora, vado subito al punto dato che il tempo non è tanto. Abbiamo avuto nel 2012 una proposta di direttiva, abbiamo avuto le proposte di emendamento, della Commissione per le Libertà Civili, Giustizia e Affari Interne, la cosiddetta Commissione LIB, e quindi nel 25 febbraio del 2014 viene approvata dal Parlamento, non ancora dal Consiglio. Fondamentalmente si ritiene che sarà approvata dal Consiglio in questa definitiva versione. Le opzioni strategiche prese in considerazione fin dall'inizio della Commissione era quella di introdurre una direttiva destinata a quella che è stata definita l'opzione legislativa massima, volta cioè a riconoscimento reciproco. Il punto di riferimento è la decisione 4.783 del 2006, volta proprio al mutuo riconoscimento. La direttiva deve in gran parte sostituire la decisione 4.212 del 2005 sui poteri allargati di confisca, che era molto garantista, proponeva un modello di confisca molto garantista, deve in gran parte sostituirla. In relazione quindi, la direttiva ci dovrebbe dare quello che è il modello di confisca, in particolare confisca allargata, destinata al mutuo riconoscimento. E questo è appunto il problema, perché la lotta contro l'infiltrazione criminale dell'economia e contro la criminalità organizzata finanziaria, il discorso che faceva il dottore Sabelli, avverrà attraverso la cooperazione a livello internazionale e quindi il mutuo riconoscimento sarebbe lo strumento fantastico da questo punto di vista. Il problema è che la direttiva, nonostante la proposta della Commissione Libe di introdurre una vera e propria azione REM, non ha accolto questa proposta, ma fondamentalmente ha accolto sicuramente una forma di confisca allargata, la confisca senza condanna, in maniera assolutamente limitata. Dico subito che, nonostante ciò, io direi che sulla direttiva noi dobbiamo trarre dalla direttiva tutta una serie di spunti di riflessione, anche rispetto al nostro modello delle misure di prevenzione, perché tanto più il nostro modello, in qualche modo, in ogni caso, si avvicinerà alle garanzie richieste dalla direttiva, tanto più, ai fini del mutuo riconoscimento, sarà preso in considerazione negli altri Paesi, perché, vi dico subito, è vero che la direttiva non accoglie il nostro modello, ma la direttiva non è incompatibile con il nostro modello di misure di prevenzione, non è incompatibile perché l'articolo 4,2 nel prevedere la confisca senza condanna dice almeno, almeno vi richiedo questo, ma poi potete introdurre anche un modello con minori garanzie, perché questa è la logica, che era anche la logica della 212 al 2005. La logica è che, secondo me, è problematica, non è quella di dire che io ti impongo queste garanzie minime, dopodiché vedi tu qual è il modello più efficace, la logica sulle garanzie minime impone il mutuo riconoscimento, questa è la più difficile. Facciamo il lavoro al contrario, io ti impongo il modello minimo di efficacia, di efficienza, con certe garanzie, dopodiché tu puoi introdurre un modello più efficiente con meno garanzie, però su quel modello più efficiente con meno garanzie io non impongo il mutuo riconoscimento, ma non lo vieto, poi rimane sempre la discrezionalità degli stati, anche perché ci sono, non vi spiego qui, tutta una serie di clausole nella 783 del 2006 che consentono questo. Il problema è che però, come è avvenuto per la 212 al 2005, molti stati poi rifiutano di applicare un provvedimento senza condanna, proprio basandosi su queste clausole che consentono il rifiuto. Non sempre, c'è sempre di più, ne abbiamo parlato l'altra volta davanti ai magistrati, c'è sempre di più un'apertura di fiducia, abbiamo dei casi che si risafulli in Svizzera, con l'Inghilterra abbiamo degli accordi bilaterali, però non sempre. Dico subito che in ogni caso il fatto che ci sia stata una direttiva in materia di confisca è l'argomento sul quale abbiamo avuto le maggiori documenti a livello europeo insieme alla lotta contro gli strumenti per la tutela degli interessi finanziari è comunque indice dell'importanza che a livello europeo, e non solo a livello europeo, non facciamo qui l'elencazione degli strumenti internazionali, sia ormai la consapevolezza dell'importanza della lotta contro la criminalità organizzata dal punto di vista patrimoniale. Allora, andiamo al modello che è stato accolto alla fine di confisca senza condanna, anche il considerando numero 15, non esclude la possibilità che uno Stato membro possa introdurre forme di confisca, lo dice espressamente. Allora, il modello che è stato accolto è una forma di action in rem, no di action in rem, scusate, di confisca senza condanna, assolutamente, sostanzialmente limitata. Si prevede soltanto l'ipotesi in cui il soggetto è affetto da malattia permanente o quando la fuga o la malattia non consente di agire in tempi ragionevoli. Non si prevede neanche quell'ipotesi che era stata prevista nella proposta di direttiva che era l'ipotesi della morte in cui il soggetto è deceduto. A proposito dell'ipotesi della morte, chiaramente dal punto di vista probabilmente internazionale era difficile ricevuto questo modello, ci rendiamo conto che dal punto di vista dell'efficienza chiaramente quest'ipotesi, l'esperienza nostra, dimostra che è un'ipotesi invece che nella prassi criminologica è un'ipotesi che rende inefficiente questo strumento perché addirittura diventa uno strumento delle organizzazioni quello di uccidere il prevenuto per evitare la confisca. Per lo meno si poteva prevedere in quella forma in cui era prevista anche prima delle nostre riforme quando almeno c'era stato già un giudizio in primo grado di accertamento dico almeno e comunque fermo arrestando la problematicità è chiaro di chiamare a difendere anche il patrimonio gli eredi la problematicità rimane. Siamo attenti, la direttiva richiede che comunque si agisca nei confronti di un soggetto nell'ipotesi in cui il soggetto sia sospettato o accusato e la Corte deve ritenere che se l'indacato o l'imputato avesse potuto essere processato il procedimento avrebbe potuto portare ad una condanna penale. Dico questo nel senso che fondamentalmente quello che si prevede è quello che poi viene previsto anche da noi cioè che il soggetto comunque sia un soggetto indiziato anche la nostra in seguito alle riforme del 2008 e del 2009 è ormai pacifico come stabilito in giurisprudenza che il soggetto deve comunque rientrare nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge 575 al 65 e oggi dall'articolo 4 all'articolo 16 del codice antimafia quindi ci deve essere comunque una pericolosità anche se non più attuale del soggetto. Qualcuno ha detto anche perché solo così si mantiene quel barlume di costituzionalità Importante, il Parlamento quindi fondamentalmente aderisce e non aderisce alla questione di accogliere l'accensione REM fa prevalere, possiamo dire, sulle esigenze di sicurezza di lotta al crimine quelle delle garanzie. Stiamo attenti però, importanti input ci possono derivare anche dal punto di vista, in ogni caso, delle garanzie procedurali perché si richiede in ogni caso che si garantisca il diritto della difesa considerando numero 15 anche attraverso un avvocato e sospettato l'imputato contumace sia informato. Garanzie procedurali che tra l'altro nell'opinione della Commissione per Fundamental Rights era stato molto sostenuto l'importanza delle garanzie di carattere procedurale e l'articolo 8 della direttiva riprende l'esigenza delle garanzie difensive e della giurisdilizzazione dei procedimenti patrimoniali. Sottolineo questo perché anche in una prospettiva futura mi sembra molto interessante le proposte della Commissione Fiandaca dal punto di vista proprio delle garanzie difensive. una delle proposte è che la proposta di sequestro e confisca sia notificata all'interessato e deve contenere un'indicazione anche concisa degli elementi di fatto su cui si fonda. Mi sembra una proposta di riforma molto importante proprio anche alla luce delle proposte della direttiva e anche la garanzia del contraddittorio il diritto ciascuna delle parti di ottenere l'esame dell'articolo 7, delle persone tra le cui dichiarazioni siano contenute mi chiedo anche se non si debba garantire il diritto di richiedere delle proprie, di chiamare a testimoniare di avere delle dichiarazioni da parte di testimoni a proprio favore come diritto della difesa in ogni caso al di là dei particolari quello che sottolineo è l'esigenza del diritto al contraddittorio anche perché la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci ha fortemente richiamato anche se la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha sempre ammesso che le presunzioni di fatto di diritto sono ammissibili addirittura non solo per il nostro sistema delle misure di prevenzione o per il civil recovery o civil forfeiture in inglese in relazione all'applicazione dell'articolo 6.1 e 6.3 ma anche addirittura in relazione alla presunzione di innocenza vera e propria 6,2 la Corte Europea ha ammesso sempre delle presunzioni di fatto di diritto purché però siano confutabili e si garantisca il diritto al contraddittorio tra l'altro vi voglio dire una cosa tanto più garantiamo realmente anche un diritto alla prova al contraddittorio alla giurisdizionalizzazione tanto più avremo garanzie anche dell'effettiva carattere l'origine illecita anche se ci parliamo di una prova indiziaria e quindi attraverso le garanzie procedurali potremo garantire anche la garanzia dell'aspetto sostanziale la dirittiva prevede anche la possibilità all'articolo 9 la necessità di garantire l'esecuzione del provvedimento di confisca anche in epoca successiva alla condanna questo mi sembra un aspetto interessante anche se poi viene ridotto soltanto alle ipotesi in cui il provvedimento di confisca sia già stato pronunciato e quindi anche la misura della confisca quindi si può applicare soltanto nell'ipotesi della confisca di proprietà non delle forme di confisca allargata in altri ordinamenti si prevede invece questa possibilità successiva possuma nel caso in cui i beni vengono individuati successivamente ad esempio in Svizzera e questo è anche una prospettiva interessante l'azione REM era invece proposta dalla commissione LIBE non è stata accolta però secondo me è importante fare riferimento alla proposta della commissione LIBE perché potrebbe anche essere un punto forse futuro anche se chiaramente la proposta della commissione LIBE era assolutamente fondamentale perché cambiava completamente la prospettiva l'Action REM pura era il modello fondamentale della confisca romea sul quale promuovere il mutuo riconoscimento alla luce delle raccomandazioni del 2011 del Parlamento romeo delle raccomandazioni anche del 2012 del GAFI e anche della realtà di diversi ordinamenti europei inglesi, irlandese italiano con le misure di prevenzione se non addirittura poi statunitense, australiane e così via chiaramente molti dei modelli di Action REM anche all'estero sono modelli con minori garanzie pensiamo al civili forfeitur un più basso onore della prova prova di carattere civilistico by preponderance of evidence accesso alle prove non utilizzabili nel processo penale ad esempio testimonianze del relato procedimenti quindi assolutamente più snelli senza condanna probabilmente questo ha spaventato questo a livello europeo cos'è che proponeva però la commissione LIBE? proponeva una l'abbiamo definita magia o quadratura del cerchio sulla quale forse il Parlamento europeo non se l'è sentita ancora nonostante la risoluzione proponesse il civil forfeitur non se l'è sentita di scommettere proponeva di introdurre una forma di vera e propria action in REM anche se comunque riferimento a soggetti comunque sospettati o rispetto ai quali si riteneva che comunque quale corra vi fosse stato un processo penale si fosse potuto arrivare ma una vera e propria action in REM basata alla riforma dell'articolo 5 della proposta di direttiva quando l'autorità giudiziale sulla base di fatti specifici dopo aver esperito tutti i mezzi di prova disponibili sia convinta che tali beni derivano da attività di natura criminale si sottolinea nella proposta che però l'onere dello standard della prova è uno standard il giudice sia convinto si usa questa espressione e si dice espressamente che anche laddove viene definita questa forma di action in REM come sanzione di carattere civile deve essere riconducibile il servizio giuridico del Parlamento richiede che la misura debba essere relativa a un reato deve essere qualificabile come sanzione penale in base ai criteri della Corte Edu sostanzialmente la Corte Edu sappiamo accoglie una nozione ampia di materia penale nella quale è concibile ricondurre anche l'amministrativo punitivo o il disciplinare nel caso si fa riferimento ai tre criteri la definizione del legislatore che non è rilevante la natura dell'infrazione nel nostro caso si deve trattare di un reato e proventi di un reato e la gravità o la natura della sanzione sostanzialmente semplifico normalmente si ritiene che si dovrebbe trattare di una sanzione che ha carattere afflittivo e finalità di prevenzione generale e speciale anche se in realtà è una nozione molto ampia chiaramente le garanzie della Corte Edu della materia penale vuol dire anche il principio di retroattività oltre che rispetto della presunzione di innocenza la presunzione di innocenza ci deve spaventare fino a un certo punto perché la Corte Edu ha sempre ammesso presunzioni purché appunto confutabili si garantiscono i diritti della difesa cosa emerge da questo modello parlare di sanzione rispetto a uno strumento che è basato sulla mancanza di condanna sembra quasi una contraddizione in termini probabilmente questo non ha convinto è vero che il concetto di sanzione forse dovrebbe essere inteso in maniera più ampia qui il problema per la Corte e per la Commissione Libe qual era? dare le garanzie del penale rispetto a un vero e proprio processo patrimoniale secondo me tra l'altro la quadratura del cerchio sta anche in questo standard della prova perché tanto più proviamo effettivamente che si tratta di profitti di origine illecita tanto più non si tratta di sanzione di carattere afflittivo ma si tratta di una misura di definiamo la compensazione di equilibrio economico cioè sostanzialmente sottraiamo dai profitti i profitti il reato non è un legittimo titolo di acquisto di beni quindi tanto più riusciamo a provare a fornire la prova dell'origine illecita tanto meno possiamo parlare di sanzione nel senso stretto del termine allora qual è l'indicazione che ci deriva dalla proposta della commissione libe e quello su cui forse ci dovremmo scommettere lo standard approbatorio dell'origine illecita io sono chi mi legge sa che ripeto fino alla nausea che a mio avviso il risultino della nuova formulazione dell'articolo 2 ter oggi nell'articolo 24 dovrebbe essere interpretato come una vera e propria prova indiziaria ex articolo 192 del codice di procedura penale e qualche volta mi ha dato anche ragione anche in un caso il caso Zuma anche il tribunale di Palermo perché a quel punto risolviamo anche le problematiche appunto di questo conflitto conflitto che oggi si ripropone nell'ordinamento tu dimmi quanto tempo no 5 devo dire qualcosa anche sulla confisca allargata il problema ce lo abbiamo in casa oggi perché abbiamo l'ordinanza di rimessione alle sezioni unite che deve decidere se accogliere l'orientamento occhipinti per cui la confisca è una sanzione e applichiamo il principio di retroattività che comprometterebbe tutta la razza della riforma del 2008 e del 2009 oppure e io in maniera provocatoria dico non bastano le formulette non basta dire sanzione risolviamo tutti i problemi la chiamiamo sanzione e quindi tutti i problemi di conformità sono risolti o al contrario continuiamo a dire che non è una misura di prevenzione perché dalla sentenza simulare nel 1996 diciamo che non è vera e propria prevenzione confischiamo in base alla pericolosità reale cioè al fatto che sono di origine illecita i beni e quindi in questo senso pericolosità reale in quanto inquinano il mercato l'economia lecita però appunto la via di fuga fornita dall'ordinanza di rimessione rivalorizziamo la correlazione temporale in maniera da valorizzare il rapporto fra pericolosità e correlazione temporale io dico ancora questo già è importante perché tanto più sono correlati temporalmente tanto più è la presunzione di origine illecita è fondata ma questo non basta io sono sempre dell'idea che bisognerebbe fornire una prova indiziale la proposta di direttiva tra l'altro appunto rimane fermo che la corte europea di diritti dell'uomo ci ha sempre salvato però siamo attenti la corte europea di diritti dell'uomo ha sempre detto il sacrificio del diritto di proprietà è proporzionato per combattere contro il crimine organizzato e qui andiamo al problema della pericolosità generica tra l'altro siamo attenti vi segnalo sentenze anche che hanno cercato di interpretare in maniera restrittiva la pericolosità generica non certamente per le contravvenzioni e comunque si richiede una vera e propria prova della dedizione continuativa sentenza 1053 del 2012 però dico il problema rimane anche in termini di analisi costi benefici confisco allargata due parole perché guardate che abbiamo il 12 sexes e che lo possiamo valorizzare anche perché il 12 sexes basta la condanna per un reato anche per un reato di peculato cioè di reati che non hanno nulla a che fare poi con la criminalità organizzata e quindi per lotta contro anche la corruzione soprattutto il 12 sexes e lì addirittura lo santo da probatore di cui ci si accontenta è che il giudice sia satisfied nella traduzione italiana non rende sia convinto in realtà la traduzione italiana il convincimento nel penale vuol dire di sopra di ogni ragionevole e dubbio oltre a ogni ragionevole e dubbio e noi in realtà se andiamo a leggere bene la direttiva e i consideranti della direttiva si parla come prova di carattere civilistico più probabile che no quindi addirittura ci si accontenta di uno stand della propria e attraverso un andamento della commissione libera si richiede la sproporzione come uno degli elementi intenziali di questa origine illecita e si richiede anche non nella norma ma non considerando l'opportunità della delimitazione temporale proprio perché c'è un'esigenza anche di evitare un approvazio di alcobolica a carico dell'imputato e chiaramente e chiudo questa delimitazione io reputo sempre che rispetto alla condanna anche per un singolo reato può diventare peggio di un processo di prevenzione fatto bene un singolo reato di condanna per un singolo reato e dopodiché ti applico la confisca su tutto il patrimonio di valore sproporzionato può diventare una bomba peggiore allora a quel punto siamo attenti a un'interpretazione corretta di questa sproporzione come nella migliore giurisprudenza sentenza Montella ma anche sentenze successive che parlano appunto rispetto ad ogni singolo bene al momento dell'acquisto e c'è anche un'interessante sentenza che forse non è stata abbastanza valorizzata nel 2010 relatore Fidelbo in cui addirittura si riprende anche per la sproporzione la delimitazione temporale perché la vera e propria sproporzione tu la puoi provare soltanto rispetto a periodi delimitati altrimenti è ultima battuta veramente finisco no solo per finire così meglio ne approfitto perché mi vuoi bene non dimentichiamoci è vero che parliamo di patrimonio io sono d'accordissimo qui diciamo il patrimonio detto Pignatone dopo il processo penale mi sta benissimo un processo di prevenzione al patrimonio action rem con certe garanzie con una vera e propria indiziaria mi sta benissimo però ricordiamoci che non è sempre vero che è un accessorio del processo penale il processo di prevenzione se fosse solo un accessorio del processo penale non avremmo il processo di prevenzione spesso viene applicato a soggetti che non hanno subito nessuna condanna perché non si riescono a condannare ma a volte ci sono indagini penali il materiale è proprio raccolto nel processo penale bisogna però siamo attenti perché se guarda caso non lo riesci proprio a condannare qualche problema rischiamo non facciamolo diventare no e no vi volevo dire solamente punto per finire che la Corte Europea e i diritti dell'uomo è vero che ci ha sempre salvato e così via però nelle sentenze in cui ci ha condannato per la mancanza di udienza pubblica che poi ha detto che non dobbiamo perdere di vista la posta in gioco delle procedure di prevenzione e gli effetti che sono suscettibili di produrre sulla situazione personale delle persone coinvolte questo tipo di procedure riguarda l'applicazione della confisca di beni e capitali cosa che direttamente è sostanzialmente allora riguarda mi ha fatto venire l'ansia l'applicazione della confisca di beni e capitali cosa che direttamente sostanzialmente coinvolge la situazione patrimoniale della persona soggetta a giurisdizione davanti a tale posto in gioco non si può affermare che il controllo pubblico in questo caso la Corte Costituzionale in seguito sempre basandosi su questa giurisprudenza della Corte Edu per la prima volta ha sottolineato che si tratta di un procedimento all'estito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito idoneo ad incidere in modo diretto definitivo e sostanziale sui beni dell'individuo costituzionalmente tutelati libertà personale patrimonio e libertà di iniziativa economica allora scusate a me mi sta bene la prevenzione ma qui secondo me non è vera e vera prevenzione io preferirei che oggi si parlasse veramente di una nuova antimafia la vera prevenzione sono il controllo giudiziario e come strumento vero di prevenzione e non di repressione del patrimonio la prevenzione che tu elimini cerchi di aiutare anche l'imprenditoria a allontanare l'attenzione mafiosa e secondo me appoggia l'ho scritto tempo fa l'importanza della 231 come strumento addirittura con maggiori garanzie perché è un vero e proprio processo penale che attraverso i modelli guionizzativi potrebbe consentire una logica che non è solo di repressione ma di vera prevenzione ma questo bisognerà però dover imparare a utilizzarla che Sabelli prenda l'impegno di insistere non darò mai più la parola a Fabio Licato è inutile che insiste e fammi lavorare che il dato importante culturale che bisogna mettere al centro delle questioni formative al Consiglio Superiore e anche nell'attività dell'Associazione Nazionale sono la cultura dei magistrati le norme fino a un certo punto se non abbiamo la cultura giusta arricchita dei magistrati tutti questi strumenti o ne li utilizziamo o rischiamo di utilizzarli non come bombe intelligenti ma come bombe nucleari io no non farò parlare Fabio Licato no almeno dopo il secondo giro Fabio ma sei palermitano hai ragione di ospitalità non ti posso spiegare silenzio io intanto saluto il viceministro Bubbico che ci ha raggiunto giusto stamattina era impegnato in un'attività legata a un importante bene confiscato nell'area di Palermo c'è la casa di cura Santa Teresa su cui si sta cercando di trovare delle soluzioni io direi quello è un case study noi lo seguiamo all'università da un po' di tempo lì la posta in gioco dal punto di vista sociale è alta perché bisognerà fare in modo che questa casa di cura senza forme di assistenzialismo che tengano in piedi una cosa che non può o non potrebbe stare in piedi senza l'aiuto di Stato trovi la sua linea di mercato si reimmetta dico al viceministro Bubbico anche che si prepari perché stamattina noi abbiamo sentito delle parole nette della Presidente Bindi sulla questione agenzia una posizione mi sembrata quantomeno meditata ma precisa e cioè la Presidente sostiene che intanto la governance dell'agenzia non può seguire le linee della Commissione Garofoli cioè di questa sorta di commissione di interessi tra destinatari dei beni e gestori e dunque bisogna magari creare uno strumento nel quale far confluire tutti gli interessati ai beni non si espressa ma credo che li sia sfuggito su un punto che per noi è fondamentale cioè l'agenzia deve uscire fuori dalla giurisdizione l'agenzia non è in grado di gestire beni e aziende fin dal momento del sequestro o anche della confisca di primo grado l'agenzia si deve occupare della sua missione originaria destinazione dei beni basta punto nel procedimento di giurisdizione io su questo insisto poi lo dirà anche Marco Mazzamuto dal suo versante amministrativistico io lo dico dal mio versante penalistico noi con l'agenzia è stato un tentativo il Parlamento all'unanimità ha costruito questo mostro ma sicuramente con le migliori intenzioni ma mostro rimane ma soprattutto ha creato i presupposti perché si infiltrasse per la prima volta in un processo giurisdizionale in un procedimento giurisdizionale elementi di alta amministrazione e qualcuno questo dato non si è ma lo lascio stringo silenzio do la parola a Stefano Musolino ma Stefano Musolino che è procuratore della DDA di Reggio Calabria come vi ho detto e che è stato protagonista insieme a tutti i suoi colleghi di una di tante iniziativa una in particolare mi piace ricordarla adesso perché dà il senso anche alla domanda che gli porrò direttamente cioè la vicenda i talcementi l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria ai talcementi per la Salerno Reggio Calabria che in qualche modo ha funto un po' da presupposto da paradigma per l'iniziativa poi presa a Milano nei confronti della TNT e che poi a seguire ha visto anche Palermo applicare alla Newport questo strumento poco conosciuto poco applicato come all'amministrazione giudiziaria so che Fabio si sta lamentando perché dice ma noi lo applichiamo da vent'anni sì a Palermo però è applicato male quindi io non li conto perché quelli sono applicazioni per me diciamo fuori dal vero obiettivo dell'amministrazione giudiziaria cioè quella era una strada secondo me una scorciatoia verso la confisca che secondo me pone problemi di garanzia molto seri quindi a me interessa più i talcementi il gruppo TNT a Milano e poi Newport a Palermo perché lì è stata valorizzata una dimensione invece più flessibile e moderna chiedo quindi quindi